Impettito in queste settimane, Massimo D'Alema sta portando avanti la sua personale campagna per il no al referendum costituzionale. Lui guarda avanti, lui spera con i suoi interventi di perlomeno mettere in crisi il governo Renzi e magari sognando di farlo cadere. Ma invece di guardare avanti io chiederei per cinque minuti a Massimo D'Alema di guardare un attimo indietro e di fornirci quella che dovrebbe essere e potrebbe essere una sua fondamentale testimonianza per la ricostruzione storica di quello che è stato ed è il disastro del Monte dei Paschi di Siena. Mi piacerebbe sapere, conoscere una sua valutazione su quelle che possono essere state le nefaste influenze del Partito Comunista o del PD nei confronti del Monte dei Paschi di Siena che era una delle più forti e antiche banche italiane. Grazie a tutti. Grazie a tutti.